Avrà luogo domenica 7 giugno alle 10 e mezzo qui al Parco Fattoria Rosario Carimi una festa, una festa per i bambini a contatto con la natura e con tantissime altre attività. Qui al Parco Fattoria Rosario Carimi ci sono oltre 30 specie di animali. Una giornata sicuramente interessante per tutti i bambini, non soltanto di Castelvetrano. Sì sicuramente, intanto ringrazio la vostra presenza qui al Parco per questa rassegna stampa che si sta svolgendo oggi alla presenza dell'onorevole Rugirello e dell'assessore Rizzo, quindi con la presenza della regione siciliana e dell'amministrazione comunale. Che dire, questa è una struttura che nasce non da molto. Ci stiamo impegnando per far sì che su tutto il territorio, anche perché questa è una struttura unica in tutta la zona, ci possa essere un punto di riferimento che possa essere adatto per i bambini e anche per gli adulti. Un punto di riferimento a contatto con la natura, con gli animali, interagire con loro, cercare di percepire tutto quello che è il mondo che ci circonda e che circonda loro. Il 7 giugno abbiamo deciso di fare con la mia collaboratrice Assunta Carlino una manifestazione che sarà aperta a tutti, sarà l'insegna del divertimento, del gioco, del contatto con la natura, quindi ci saranno anche i giochi per i bambini, perché noi qua amiamo fare anche un misto non solo di natura ma anche di giochi, perché i giochi fanno parte, come siamo stati tutti, di quella che è proprio l'indole di ogni ragazzina e di ogni bambino. Anche gli adulti avranno modo di poter trascorrere una giornata in maniera molto distensiva, ci saranno la degustazione di prodotti, ci saranno delle mostre fotografiche, ci saranno varie attività che cercheranno di impegnare anche chiaramente gli adulti. Una manifestazione che si attende per domenica, patrocinata anche dall'ASA, la Regione, che coinvolge i bambini, quindi nel sociale avvicinare i bambini agli animali, alla natura. Ma è intanto un momento di stare insieme, che oggi come oggi, con tutto quello che il clima ha roventato sia in politica che nella società civile, ritornare a un passato, ritornare alle tradizioni, ritornare in mezzo agli animali, Penso che sia il punto di partenza dove imparare e far conoscere ai ragazzi e ai bambini quella che è l'esperienza della loro vita. Abbiamo qui un parco che grazie alla famiglia Carimi che mi ha messo a disposizione, che ha creato e che da questo momento in poi inizieranno a fare anche una fattoria didattica abbastanza importante con la collaborazione dell'amica mia, la dottoressa Assunta Carlino. Penso che possano essere un fiore all'occhiello anche per il territorio di Castelvedrano, un territorio che ovviamente ha bisogno non solo essere riconosciuto per altri fattori che ovviamente sono nella bocca di tutti, ma è un momento dove la famiglia, dove i bambini, dove i ragazzi debbono creare l'unione, debbono creare quella che è la partecipazione a una vita sociale. E dall'animale penso che sia la fonte migliore come insegnamento e come vivere. Abbiamo un fiorfiore di animali con qualità e mantenuto in maniera eccellente, quindi penso che possa essere onorata anche l'Assemblea regionale di aver dato questo piccolo contributo, ma nella partecipazione a quelli che saranno gli eventi che all'interno di questo parco si possono fare. Accanto a me l'assessore Rizzo del Comune di Castelvedrano si attende per domenica una giornata molto interessante a contatto con la natura per far riscoprire ai bambini d'oggi che stanno sempre un po' su Facebook con queste nuove tecnologie, riscoprire appunto la natura e gli animali. Sì, per l'appunto domenica mattina si inaugura ufficialmente la fattoria Rosario Carimi e per questo ringraziamo Filippo Carimi per l'invito che è rivolto all'amministrazione comunale. E' vero, dicevi proprio bene laddove con questo progetto si permette a tutti quei bambini che purtroppo oggi sono distratti esclusivamente da Facebook, telefonini, dalle Playstation e quindi non riescono a vivere direttamente tutto ciò che è natura, tutto ciò che è con gli animali, di essere qui presenti al fine per l'appunto di intraprendere, di far passare una giornata per l'appunto differente, diversa a contatto con la natura e con gli animali nella speranza per l'appunto di poter essere da pungolo per noi genitori, di tornare e di prendere nelle opportune considerazioni quelle che sono le origini e da dove proveniamo, cioè la terra. Un incontro interessante anche per gli adulti, ci sono animali che non si vedono molto facilmente, struzzi, daini? Proprio questo dà il segnale opportuno e corretto di quanto importante e di quanto ambizioso sia il progetto Rosario Carimi, Fattoria Rosario Carimi perché se già Filippo parte su questo piede credo che sia molto importante, credo che si andranno a ampliare le specie animali che potremo e che potranno trovare qua i visitatori, per l'appunto grazie animali che non sempre interessano al nostro territorio e che quindi possono essere da spunto per venire a passare una giornata tanto ai grandi quanto ai bimbi. Accanto a me Vincenzo Perrino, dell'associazione Con Noi Dopo Di Noi, un'associazione che collabora attivamente con il Parco Fattoria, giorno 7, quale sarà il vostro contributo? Il nostro contributo sarà che i ragazzi verranno qua a vivere questa giornata sicuramente indimenticabile per loro, anche per loro le piccole cose, le piccole emozioni, gli animali, sicuramente sarà una giornata da non dimenticare. Saranno sicuramente interessati agli animali perché comunque è un mondo anche nuovo? Sì, per loro sì perché non stanno col contatto diretto con gli animali, anche perché loro hanno paura degli animali perché in famiglia non gli danno la possibilità di vivere con loro, con gli animali. Accanto a me Assunta Carlino, responsabile eventi del Parco Fattoria Rosario Carimi. Oltre a giorno 7, tante le iniziative che verranno nei prossimi mesi estivi? Sì, innanzitutto giorno 7, detto bene, ci sarà una bellissima manifestazione patrocinata dal Comune di Casselvetrano e dall'Arsa, l'Assemblea regionale siciliana, dove appunto la struttura aprirà le porte a tutta la cittadinanza e a chi volesse intervenire con il parco aperto per fare appunto visionare tutte queste specie di animali e poi una serie di attività collaterali, come ad esempio una mostra, antiche mestiere, delle degustazioni di prodotti tipici proprio appunto per avere appunto questo filo conduttore, tutto quello che può essere il pane nero, abbiamo un'altra azienda del miele e tantissimi altri espositori. Per quanto riguarda altri lavori in corso, sì, stiamo lavorando al campus del Parco Fattoria Rosario Carimi per questa annata 2015. Sarà una serie di attività diverse rispetto, secondo il nostro punto di vista, rispetto a tutti gli altri campus estivi che si organizzeranno perché appunto i nostri sono orientati a dare una visione materiale proprio di quella che è la campagna, di quella che è infatti tutte le attività, giornalmente i bambini saranno appunto impegnati a attività diverse, quale ad esempio una giornata dedicata alla terra, quindi faranno, proprio costruiranno, se così si può dire, il proprio orticello dove semineranno le piante o gli ortaggi o comunque tutto quello che è inerente a questo discorso e quindi il bambino si renderà conto proprio non solo della semina ma anche della crescita, della pianta fino alla raccolta appunto del frutto. Un'altra giornata, per esempio invece un'altra giornata dove i bambini saranno a contatto diretto con gli animali, quindi con tutti i cuccioli del pulcino piuttosto che il coniglietto e piuttosto qualsiasi altro animale cucciolo, quindi proprio appunto per il contatto diretto. Un'altra giornata poi invece saranno dedicati a tutti quei giochi all'aria aperta. Il laboratorio appunto si chiama Quando non c'era la Playstation, cosa facevano i bambini e quindi tutta una serie di attività appunto dove l'obiettivo principale appunto è quello di far capire a bambini che ci sono delle regole, che il gruppo è molto importante per la convivialità e tutto. Un'altra giornata invece molto interessante, qui abbiamo la diretta interessata, è una giornata dedicata al potenziamento della lingua inglese con madrelingua. Quindi come hai potuto ben capire, presso la nostra struttura ci sarà non solo divertimento ma anche studio. Studio giustamente, un studio chiamiamolo così, un po' un divertimento, studio divertimento. E io proprio su questa giornata, che credo che è molto importante, volevo fare intervenire direttamente la dottoressa Bua che si occuperà proprio di questo laboratorio di inglese. Come sarà organizzato il laboratorio di inglese? L'organizzazione del laboratorio sarà usando la lingua inglese come primis e poi usando la natura come base. Allora, usando già le parole degli animali, usando questo bellissimo spazio come divertimento, sarà strutturato come gioca impara, nel senso che tu impari una lingua straniera senza neanche accorgetene. Torniamo al campus estivo. Come contattarvi? In che modo i bambini possono appunto partecipare? E allora, innanzitutto noi abbiamo una pagina Facebook dove possono contattare direttamente il presidente della struttura, il signor Filippo Carimi, o possono contattarmi, possono contattare anche me perché sono io la responsabile dell'organizzazione del campus, dovrei dire la mia mail carlinoas.gmail.com o possono contattarmi al 320-7426-424.